secondo le statistiche di youtube solo l'1 per cento di chi guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie vado a vattere il caffè coppa schifani vado a sustrutti come fai ciò no porco dio sustrutti mangia perché non mi piace non mi piace non bestemmiare mannaggia non sei una bello di tiktok mannaggia ma che sangra mannaggia mannaggia perché non mi piace non mi piace non bestemmiare andando scherzando non mi va è buona questo è peggio del sushi mannaggia maronna non mangridare sacrileggio amore ti calmi no come no perché prima volta una pizza è sacra allora quando viene a dormire con me che mi dice non voglio dormire con te stanotte da un caccio un culo no non mangiamo insieme ma è stata fatta pensa sempre a mangiare o sono le mie quelle alexa accendi bollicine orcadroia Grazie mille. 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 Oh è rotta il cavolo, sono sempre a mangiare. Luzanna, Gulzazza, ask me. Buonasera Gennaro, devo chiederti una cosa tu di chi sei? Di Michela Della Wez oppure di tutti noi? Gulzazza, sei serio? Ma naturalmente sono di tutti voi? No. Mi chiedete la Wez, è una grande, ma senza di voi? Mi fate compagnia in chat. Darei solo un pazzo. A parlare da solo. A parlare da solo. Dai, fammi una domanda seria ora. Tipo, Andonio, lo gnomo o sushi? La chiamavano ninja. La chiamavano ninja. Oh, 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 oh. Devo fare un caffè, accompagnio. Amore. Ma che sei, ma che sei scema? È soccanì. Boh. Cioè, già non ho fatto nello bene. Non ho pure la paletta, non ho già piaciuto più. Ma tu guarda a dove ti vieni, cioè. Sei proprio goffo. Ma lo vedi che allora c'ho ragione che sei goffo, cazzo. Oddio mio, ma io ce la faccio. Vai, che fai come vai, cazzo. Spietto, banno proprio, ma che cazzo cazzo, hai capito? Ti. Le malte proprio, ti. Ecco qua. Adesso io non fai la cazzo di suono, mannaggia Gesù Cristo. Il giro sta per iniziare. Preparatevi i goliardici. E dicevo, non facci tu burdello, mannaggia la maronna. E ti spavano sti cazzo di suono, mannaggia la maronna, porco Dio. Smetto pure il rir. Benvenuti nella ruota goliardica. Ah, Gulsazza? Asmi. Buonasera, Bibbande. Volevo chiederti. Preferiresti una vacanza con Cranos e Gulsazza? O una vacanza con Michela? Della Uex? Buonasera a te. Ah, bella domanda. Ma dato che Cranos e Gulsazza sono Bibbande come noi, sceglierei sicuramente una vacanza con loro. Più. No. Siamo. Più. Ci divertiamo. No. E poi vuoi mettere le serate goliardiche e le risate. Comunque. Speriamo che Michela della Uex non legga questa chat. No. Se no mi tocca scappare. Come. Antonio. L'ognomo a move. Direttore, ma qua mi stanno chiamando. Pronto? Chi è? È pronto? C'è qualcuno? Mi perde? Sì, sono io. Mi dica. Sono il dipendente. Chi è? Ah, no. Io cercavo il signorio della Uex. La Uex? No. No. Non siamo la Uex. Qua siamo Dallem Damson. No, guardi. Glielo giuro. Ah, ok. Niente. È un peccato. Salve. Arrivederci. Arrivederci. Ma che sova. E adesso è il bezzo. Ok. Ok.